Tu sei dell'idea che Berlusconi sia titoli di coda, arrivederci? Mi frena su questo il fatto che sia Berlusconi, nel senso che io per primo, tutti noi analisti, lo abbiamo sepolto un'infinità di volte, salvo poi vedercelo riemergere. Quindi un ovvio, un elementare prudenza mi spinge a una qualche cautela, però mi sembra francamente... Supponiamo che la cautela sia corretta, ma quanto può valere in termini percentuali? Ma il punto secondo me è esattamente quello, il punto è che già il 15-18 sarebbe moltissimo. Già il 15-18 sarebbe moltissimo, visto che siamo nel centenario della Grande Guerra mi sembra bene. Comunque non immaginiamo un 39-45, anzi un 40-45, visto che abbiamo preso date italiane.